In questo breve video vedremo la struttura del nostro corso, il corso di lettura 3D. Questo corso è stato realizzato da design didattico, in particolare a cura di Emiliano Onori. Lettura 3D, cosa si intende per lettura a tre dimensioni? Si intende una lettura su device digitali, quindi non cartacea, che passa attraverso il browser, lo smartphone o il tablet, fino ad arrivare all'e-reader, ad esempio i lettori di e-book, i più noti dei quali sono Kindle, Amazon, per esempio, o anche Kobo, distribuito in Italia da Mondadori. Ora, vediamo innanzitutto in quale scenario si colloca questo breve corso. Oggi, sempre più spesso, grazie ad internet, ad un accesso sostanzialmente continuo, siamo immersi in una grande esperienza di lettura. Anche grazie ai social network, noi abbiamo la possibilità di avere continuamente accesso a dei testi, più o meno brevi, più o meno lunghi, cosa che non accadeva qualche anno fa. Da aggiungere che questi testi oggi sono fruibili da una grande varietà di device. Perché tutta questa esposizione ai testi? Perché ormai, rispetto a solo tre o quattro anni fa, viviamo in un contesto sempre connesso. Sia che si parli di computer fissi, che mobili, ma persino di device come smartphone o tablet. Ormai questi strumenti hanno un senso solo nella loro dimensione connessa. Connessa, connessa naturalmente ad internet. Quindi ci troviamo in una situazione in cui, grazie a una connessione pressoché sempre attiva, abbiamo l'accesso a una grande quantità di testi. Dove leggiamo questi testi? Normalmente vengono letti tramite dei dispositivi di lettura. Anche qui il salto tecnologico di qualche anno a questa parte ha reso possibile ciò che solo 4-5 anni fa era molto disagevole. Vale a dire la lettura di testi, anche discretamente lunghi, da smartphone. Gli smartphone ormai hanno raggiunto una dimensione di display quasi sempre non inferiore ai 4 pollici per arrivare anche a dimensioni ben superiori. Inoltre i tablet, che hanno dimensioni variabili normalmente dai 7 ai 10 pollici, rendono possibile la lettura in pressoché qualunque condizione. Quindi non leggiamo più soltanto dinnanzi al nostro computer fisso o portatile, ma in qualunque momento. Si pone dunque un problema. Vale a dire, ci troviamo spesso nella condizione di trovare un testo che ci interessa, magari sfogliandolo tramite social network, e non avere modo di leggerlo, o per la sua lunghezza o per altri impegni del momento. E allo stesso tempo non abbiamo la maniera di salvare quel contenuto per una lettura successiva. Quindi, da un lato, questa grande sovraesposizione di testi ha fatto nascere un piccolo problema. Vale a dire, la reperibilità successiva di questi stessi testi. Una volta si poteva sopperire a questa difficoltà, salvando tra i preferiti la pagina di nostro interesse. Tuttavia, i preferiti sono un qualcosa di diverso che pagine di nostro interesse. La pagina di nostro interesse può in effetti appartenere a un sito che non riteniamo preferito. Per questo motivo, dunque, occorre trovare gli strumenti per selezionare, possibilmente salvare, soltanto le pagine di nostro interesse, e non dunque tutto il sito che le ospita. Questo è un po' anche il senso, dunque, del nostro breve corso. Vediamo come risolvere il problema. Una prima risoluzione del problema è questo. Quello su cui lavoreremo è il cloud, vale a dire la nuvola. Cosa si intende oggi per cloud? Si intende una serie di dati che non risiedono più materialmente e fisicamente sul nostro dispositivo, che sia esso uno smartphone, un tablet, o anche una pendrive o un computer, ma sono altrove, sono dei server di alcune aziende che forniscono servizi. Quindi, sempre più spesso, noi non possediamo l'informazione, ma l'accesso all'informazione. Si dice in cloud, nella nuvola, perché essi sono raggiungibili pressoché da qualunque dispositivo che si possa connettere ad internet. Quindi, una prima risoluzione del problema sta nel fatto che agiremo nella nuvola, nel cloud. In tutto questo corso noi non salveremo mai un dato, o meglio, noi memorizzeremo questi dati nel cloud e potremo raggiungerli in altri momenti attraverso i nostri dispositivi mobili. Un'altra caratteristica è che ogni nostro dispositivo può accedere a questi dati, sia che lavoriamo col computer di casa fisso, oppure mobile, o computer dell'ufficio, computer di un'altra realtà lavorativa, come può essere la scuola, sia che lavoriamo col nostro smartphone o col tablet dell'azienda o della scuola, o di qualche altra realtà. Non importa di chi sia il dispositivo, l'importante è che questo dispositivo abbia una connessione ad internet e ci dia modo di fare un accesso ad un account che abbiamo previamente registrato. Cosa ci serve per realizzare tutto questo? Degli strumenti molto semplici. Innanzitutto un browser che, come si vede dal logo, può essere quello di Google, cioè Chrome, che risulta essere particolarmente agile anche grazie a delle estensioni che noi installeremo subito. Poi ci serve un account a uno di questi servizi. Noi sceglieremo Readability perché tra i più efficaci e tra i più diffusi. Quindi dovremo registrare un account nella stessa identica maniera in cui abbiamo registrato il nostro account di posta elettronica. Poi ci servirà uno smartphone o un tablet su cui materialmente vedere gli articoli che abbiamo salvato ed eventualmente un e-reader, vale a dire un lettore di e-book. Le fasi del nostro lavoro, dunque, saranno queste. Innanzitutto installeremo l'estensione di Readability nel browser ed è un'operazione estremamente semplice. Poi ci registreremo sul sito readability.com creando il nostro account e questo account varrà per ogni nostro device connesso ad internet, che sia un tablet, uno smartphone, un browser o anche un Kindle. Poi vedremo materialmente come si usa questo strumento che abbiamo appena installato. Proveremo l'installazione su device mobile ed è disponibile sia per sistema Android che per iOS. e poi vedremo anche come installare nel browser una estensione che consente di leggere e-book, vale a dire libri elettronici. E infine procederemo all'attivazione di questo servizio su Kindle dal nostro account Amazon. Queste sono le fasi, dunque, del nostro lavoro.